Dottor Bonissoni, quali sono secondo lei gli aspetti più delicati, più importanti dal punto di vista fiscale da affrontare durante una ristrutturazione? Sostanzialmente sono due. Il primo riguarda il fatto che attorno al tavolo ci sono operatori che hanno una fiscalità ciascuno diversa dall'altra. Le banche, i clienti e a volte anche l'erario. Hanno un loro profilo totalmente diverso. Il secondo è che esistono ovviamente esigenze anche di bilancio in capo ai diversi operatori attorno al tavolo che cambiano di volta in volta. Quindi non solo la fiscalità ma anche la struttura dell'operazione ha dei riflessi sui bilanci dei vari soggetti attorno al tavolo della ristrutturazione che cambia di volta in volta. Il che significa conoscere la fiscalità e anche il bilancio dei singoli componenti che stanno attorno al tavolo nelle ristrutturazioni. Grazie dottore.